La Vivi Altotevere Sansepolcro è lieta di comunicare il ritorno in bianco-nero di Maurizio Falcinelli, personaggio che non ha bisogno di presentazioni nell'ambiente del borgo, autentica istituzione per intere generazioni di calciatori locali, nonché protagonista della storica vittoria dello scudetto Juniores nazionale del 2009. Maurizio Falcinelli ricoprirà il ruolo di responsabile dell'area tecnica bianco-nera. L'incarico lo vedrà operare in massima sinergia con il direttore generale Giovanni Guerri, con l'obiettivo di dare vita ad un progetto sportivo di livello per affrontare nel migliore dei modi la stagione del ritorno del Sansepolcro in Serie D. Altra nota positiva riguarda l'ingresso all'interno dell'area tecnica di Lorenzo Burzigotti, tra i grandi protagonisti della vittoria del campionato di eccellenza che dopo una brillante carriera da professionista ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo per intraprendere questo nuovo percorso. Un grande bentornato a Maurizio e un augurio di buon lavoro a Lorenzo.